Porteremo barche di pilo, navi cariche di pilo, insommamente, fortissimamente pilo! C'è in lui un qualcosa di ancestrale, un qualcosa anche di animale. Qualunque mente è un'immagine della nostra realtà, un'immagine deformata per idremi, per farci anche pensare. Quando avete letto la sceneggiatura cosa vi ha divertito di più? Beh, io diciamo mi sono divertito perché ho ritrovato comunque Cetto, quindi diciamo ho ritrovato un personaggio che amo, che conosco. Mi è sembrato anche che la sceneggiatura avesse il pregio di non essere solo il personaggio televisivo, ma che invece poi ci fosse una storia con dei personaggi. E mi ha divertito soprattutto anche ritrovare il mondo di Cetto, la moglie, altri personaggi. Questo mi ha molto divertito. Mi ha divertito anche la cattiveria di questo personaggio, questo personaggio spregiudicato e cinico che trovo molto divertente. Perché quando il comico si accoppia col buonismo diciamo fa ridere meno. Questo film invece è abbastanza ficcante. Sì, più o meno sono evidentemente le stesse cose. Quando uno seguiva Antonio raccontare Cetto nelle sue interventi magari da Fazio eccetera eccetera, l'immaginazione ti portava assolutamente a voler conoscere il De Santis che lui non lo sputava ma se lo sputava lo profumava queste cose così, la moglie, il figlio, il contesto e tutto quanto. Ritrovarli mi è molto 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 divertito. C'è qualcuno che vi è ispirato nei vostri personaggi? C'è qualche, chiaramente non imitato, ma qualche elemento di realtà che avete tradotto nello spin doctor della campagna elettorale nella moglie di questo personaggio così inquietante? Beh, io ho un po' magari pensato a questi personaggi del sud che poi vanno al nord e poi improvvisamente cominciano a dire perla e così via. Però poi ogni tanto nella cadenza senti sempre la matrice meridionale. E' più a quello che ho pensato. Poi non avevo un'idea di cosa fosse lo spin doctor. Ne ho sempre sentito parlare, ho letto, ma non ne ho mai conosciuti personalmente. Ciò su cui invece ho riflettuto di più appunto è il meridionale che va a Milano e cerca in qualche modo di sentirsi anche lui meneghino. Quello mi faceva molto ridere. Sì, io devo dire, ho preso un po' qui e un po' là. Mi sono un pochino ispirato alle first lady, però non politiche diciamo, le first lady degli industriali piuttosto che di questi personaggi ricchi e famosi che hanno una vita molto molto attiva e che quindi li seguono ma diciamo così fino a un certo punto vengono anche molto molto messi da parte mentre invece le first lady degli uomini politici sono magari un pochino più vicino agli uomini politici perché devono comunque raccontare l'immagine della famiglia. E poi ho pensato a una donna che ormai ha superato i 40 anni e che vuole tenere su la propria immagine come parecchie delle donne che ci sono in Italia e nel mondo in generale e che quindi cerca in qualche modo di tenersi su e di vincere una competizione invece con la giovane che incalza in maniera anche drammatica mantenendo comunque però i sani valori della famiglia perché poi quello che mi piaceva molto del personaggio è che era veramente meridionale nel senso di tutti quei valori che una donna meridionale soprattutto ma chiaramente tutte, insomma nel meridione soprattutto io vedo questa cosa nei valori della famiglia, dello stare vicino, anche un po' anche dell'apparenza e che lei chiaramente cerca di difendere e portare avanti. Mi è mancata tanta la famiglia, era così forte la mancanza che infattamente in questi anni me ne sono fatta un'altra. Cettolaco comunque ci fa molto ridere ma dicevamo all'inizio già ci fa pensare voi che sentimento provate nei suoi confronti? Vi fa paura, vi diverte, vi spaventa oppure è soltanto un moloch della nostra realtà? Una sua esagerazione? Mi fa orrore Cettolaco comunque, è una cosa terribile cioè è un incontro che non augurerei a nessuno cioè è un personaggio spregiudicato, cinico poi certo fa anche simpatia perché ha mille sfumature quindi è anche molto persuasivo, è accattivante ma di fondo non gli metterei in mano nemmeno 50 centesimi insomma è un ladro, è un cinico, è un mafioso è un uomo che ha un'idea delle donne terribile e quanto di peggio diciamo questo paese possa aver prodotto Signora gentilmente mi fa la ricevuta fiscale bancherotta fraudolenta, false fatturazioni, riciclati ma manco avessero rubato qualcosa qua scopo